Ce lo racconta com'è nata quella chat Whatsapp? Ho dato il telefono a un collaboratore e ho detto mi fate una chat per Whatsapp e ha messo tutta questa roba con tutti i numeri di telefono, mi dispiace con numeri di telefono di onorevoli, senatori, cioè di persone anche direi importanti, ora io mi sono sentito a disagio e quindi ho detto ma scusate signori ma avete dato il numero di telefono a tutti, ora ci sono tante persone sane di mente ma ci sono anche persone non sane di mente quindi chiedo scusa, mi dispiace, ho commesso un reato grave oltretutto perché ho dato i numeri di telefono a mezzo mondo quindi mi dispiace, sono colpevole, questa volta non la posso scampare ma l'ho fatto in buona fede, non l'ho fatto direttamente ho dato solo un telefono, infatti ho cancellato tutti e oltretutto avevano montato sopra 360 nomi che a un certo punto erano arrivati a 890, a cancellarli è stato un incubo, ho mandato anche un messaggio dove ho chiesto a tutti di cancellarsi autonomamente in modo tale da poter fare, io avevo chiesto qualcosa dove non si vedessero i numeri di telefono di tutti, insomma, mi sembra abbastanza chiaro così almeno tutti hanno scoperto delle mie 150 amanti